Musica Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Da Palazzo Cesaroni arrivano misure di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma di agosto. Ce ne parla Marco Paganini. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato maggioranza con l'astenzione del Movimento 5 Stelle le disposizioni finanziarie predisposte dalla Giunta per dare sostegno a persone e attività economiche colpite dal terremoto del 24 agosto 2016. Prima del voto il relatore Andrea Smacchi, presidente della Prima Commissione, ha illustrato il provvedimento spiegando che gli interventi riguardano le agevolazioni per il diritto allo studio universitario, la sospensione delle rate dei mutui, l'estensione degli ammortizzatori sociali e anticipazioni retributive, la destinazione delle liberalità pervenute sull'apposito conto corrente regionale. Disposizioni di natura diversa riguardano l'incremento di 30.000 euro dello stanziamento per gli interventi legati al giubileo e l'incremento di 25.000 euro dello stanziamento per i sistemi della protezione civile regionale. Nello specifico, gli studenti iscritti alle Università Umbria e i residenti nei comuni interessati dal sisma vengono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. Le somme confluite nel conto corrente regionale con la causale donazione terremoto Umbria agosto 2016 saranno destinate alla realizzazione di interventi di pubblica utilità. Previste poi misure per il sostegno al reddito con ammortizzatori sociali per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro per effetto di crisi aziendali o occupazionali. Sospensione infine del pagamento delle rate di mutuo immobiliare per l'acquisto o la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare. Approvato a maggioranza in terza commissione il disegno di legge per le politiche di genere. Maggiori tutele per le donne nel lavoro, nella salute e nel contrasto alla violenza. Paolo Giovagnoni La commissione sanità e servizi sociali ha approvato a maggioranza il disegno di legge norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra uomini e donne che ora passa al voto dell'aula di Palazzo Cesaroni. Hanno votato a favore gli esponenti della maggioranza il presidente della commissione Attilio Solinas, i consiglieri Gianfranco Chiacchieroni e Marco Vinicio Guasticchi del Partito Democratico Silvano Rometti per i socialisti. Contrario è il consigliere Sergio De Vincenzi, gruppo ricci presidente, astenuti Marco Squarta Fratelli d'Italia e Maria Grazia Carbonari del Movimento 5 Stelle. La presidente della regione, Catiuscia Marini, ha seguito per intero la votazione sull'articolato. Si tratta di una legge quadro che va ad intersecarsi con le leggi di settore e le politiche di servizio che la regione mette in campo in diversi ambiti, dalla salute al lavoro. È istituita la rete per le politiche di genere di cui fanno parte la regione, gli enti locali, le associazioni delle donne, le associazioni datoriali e sindacali, gli organismi di parità e di pari opportunità e il centro per le pari opportunità. È finalizzata ad attuare un programma integrato di politiche e interventi. In più, questo disegno di legge contiene parti riguardanti il contrasto alla violenza sulle donne, come la rete dei servizi antiviolenza, di cui fanno parte i comuni, le aziende ospedaliere, le Hausd, il centro pari opportunità e i centri antiviolenza. La legge è sostenuta da una norma finanziaria che prevede già per il 2016 200 mila euro, di cui la metà per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere. Via libera della seconda commissione a modifiche e integrazioni al testo unico del commercio, accolte diverse proposte di Anci, Cal e associazioni di categoria. Vediamo. Con i voti favorevoli dei commissari della maggioranza, Chiacchieroni, Solinas, Smacchi, Leonelli, Brega del Partito Democratico, oltre a Ricci della lista Ricci-Presidente, l'assenzione di Fiorini della Lega Nord e il voto contrario di Liberati del Movimento 5 Stelle, la seconda commissione presieduta da Eros Brega ha approvato il disegno di legge della Giunta regionale che prevede modificazioni e integrazioni alla legge regionale 13 del 2014, testo unico in materia di commercio, collegando allo stesso un documento contenente una serie di emendamenti, firmati da tutti i commissari della maggioranza, oltre che da Ricci, Ricci-Presidente, e Nevi, Forza Italia, accolte numerose indicazioni emerse nel corso di precedenti audizioni o contenute i specifici documenti di Anci, Cal e associazioni di categoria. Ha approvato all'unanimità un sub-emendamento del consigliere Giacomo Leonelli del Partito Democratico relativo al tema delle fiere, in particolare la proposta riguarda la revoca dell'autorizzazione in caso di cessione della gestione di attività commerciale per effetto di contratto di sub-affitto. Saranno tre i relatori in aula, il presidente della commissione Brega per la maggioranza e due per le opposizioni, Ricci e Liberati. Tra le modifiche di maggiore rilievo, oltre a quelle prettamente tecniche, è il superamento del limite massimo delle grandi superfici, fissato attualmente a 15.000 m2 per le strutture alimentari e 20.000 per quelle miste. Il limite verrà comunque definito e organizzato all'interno del regolamento regionale che sarà portato da parte della Giunta all'attenzione e all'analisi della stessa commissione consigliare. Verrà anche mantenuta la conferenza dei servizi per le strutture di maggiori dimensioni. Viene abrogato l'osservatorio regionale del commercio. Per quanto attiene il commercio su aree pubbliche, è stato previsto un limite nello stesso luogo per gli itineranti di 120 minuti. Alla riunione ha preso parte l'assessore regionale al commercio Fabio Paparelli. L'Assemblea legislativa dice sì ad una risoluzione della terza commissione che impegna la Giunta a valutare proposte operative avanzate dai direttori di struttura complessa. Disco. I dettagli nel servizio. L'Assemblea legislativa ha approvato, con 12 voti favorevoli e 3 astenuti, liberati e carbonari Movimento 5 Stelle, Fiorini, Lega Nord, la proposta di risoluzione della terza commissione consigliare, illustrata in aula dal presidente Attilio Solinas, che impegna la Giunta regionale a valutare, come proposto dall'assessore Luca Barberini, a integrazione del dispositivo dell'atto, l'opportunità di recepire nel nuovo piano sanitario regionale le proposte operative avanzate dai medici del gruppo Disco, i direttori di struttura complessa. Le proposte riguardano l'inserimento nel sistema sanitario della clinical governance e di istituire presso l'assessorato alla sanità una consulta regionale dei clinici, rivedere le modalità di distribuzione delle risorse per la sanità, riesaminando la mappa degli insediamenti ospedalieri, ma anche la riorganizzazione della rete ospedaliera, la razionalizzazione dei dipartimenti, procedere alla ricognizione dell'adeguatezza delle dotazioni organiche, l'attivazione di azioni di verifica e monitoraggio della corrispondenza a determinati obiettivi di performance sanitaria. Viene suggerita poi un'interazione continua con le aziende per verificare la conformità della gestione rispetto alla programmazione, attribuendo ai dipartimenti poteri e responsabilità per raggiungere i risultati convenuti e gestire il budget negoziato e ancora l'implementazione del sistema informatico unico regionale, definendo e attuando in tempi brevi un processo di integrazione tra aziende ospedaliere e aziende sanitarie di riferimento. C'è poi la proposta di istituire le reti cliniche per far fronte alle problematiche dell'area delle patologie croniche e a quella delle patologie acute, istituire infine presso l'assessorato alla sanità una unità operativa dedicata all'Health Technology Assessment e attivare con urgenza il servizio di trasporto neonatale. Ritorna in Commissione per una maggiore condivisione la risoluzione della terza Commissione per rafforzare il sistema del welfare e sostenere le persone non autosufficienti. Il servizio. Dopo la presa d'atto degli interventi effettuati in favore delle persone non autosufficienti e della proposta di risoluzione della Commissione Sanità e Servizi Sociali presentata in aula dal Presidente Solinas eseguita dall'illustrazione di un emendamento del Movimento 5 Stelle pressoché sostitutivo dell'atto l'Aula di Palazzo Cesaroni ha deciso di approfondire ulteriormente l'argomento in Commissione ascoltando le istanze di tutti i soggetti interessati operatori, associazioni, enti pubblici per giungere a una proposta finale condivisa su un tema delicato e di grande impatto sulla nostra regione. È emersa la necessità di rafforzare e modificare il sostegno al sistema del welfare regionale si discute anche della possibilità di far scegliere alla persona disabile o alle famiglie coinvolte se indirezzarsi verso le strutture o percepire direttamente un sostegno economico. Nel dibattito sono intervenuti i consiglieri ricci dell'omonimo gruppo consigliare Liberati e Carbonari, Movimento 5 Stelle, Chiacchieroni e Brega, Partito Democratico, Squarta, Fratelli d'Italia, Mancini, Lega Nord, Rometti, Socialisti, Nevi, Forza Italia e l'assessore alla sanità Barberini. L'obiettivo è quello di favorire la permanenza delle persone non autosufficienti al proprio domicilio, potenziando l'offerta dei servizi domiciliari, semiresidenziali e i servizi di sollievo, riservando la soluzione residenziale alle sole situazioni in cui la domiciliarità non è possibile. Per il Movimento 5 Stelle la priorità è favorire l'accompagnamento di tutte le persone non autosufficienti, senza distinzioni di età, condizione, livello assistenziale e patologia, garantire la stessa possibilità di accesso a tutte le prestazioni monetarie, IVI incluso l'assegno di cura, che può essere erogato direttamente alla persona disabile, la sua famiglia o altre persone che l'assistono. L'assessore Barberini ha ricordato che il piano sociale sostiene fortemente la domiciliarità, la struttura subentra quando la famiglia non ce la fa. La migliore soluzione è non sradicare la persona dal contesto in cui vive e qualificare l'offerta dei servizi, con percorsi di accreditamento dei soggetti che garantiranno la prestazione, anche presso il domicilio. La proposta della Lega Nord di modificare la legge regionale sull'edilizia residenziale sociale, rinviata dall'Aula in Commissione per ulteriori approfondimenti. Vediamo. I consiglieri regionali della Lega Nord, Emanuele Fiorini e Valerio Mancini, hanno presentato in Aula una proposta di modifica della legge regionale 23 del 2003 in modo da poter assegnare case popolari a chi risiede in Umbria da almeno 10 anni, anziché da 2, come prevede l'attuale legislazione, e anche di permettere a coniugi separati, in possesso della documentazione che prova l'assegnazione della casa di proprietà all'altro coniuge, di accedere ai bandi per le case popolari. Inoltre la Lega propone di escludere i possessori di immobili anche se non sono ubicati sul territorio italiano. La proposta di Fiorini e Mancini ha incontrato apprezzamenti con distinguo in Aula. Il Movimento 5 Stelle ha ricordato che 5 anni di residenza sul territorio sono da considerarsi la misura di tempo più appropriata in quanto rientra nei limiti individuati dalla Corte Costituzionale nelle ultime sentenze. L'assessore Chianella ha ricordato che la Regione aveva stabilito quale requisito 5 anni di residenza e si è verificato il ricorso alla Corte Costituzionale promosso dal Consiglio dei Ministri, con motivazione attinente proprio all'eccessiva lunghezza del periodo di residenzialità, ritenuto difforme rispetto agli orientamenti della Corte di Giustizia europea, che ritiene congruo un tempo di 24 mesi su cui si è adeguata la Regione, con conseguente successiva rinuncia da parte dell'Avvocatura dello Stato. La proposta della Lega è stata quindi inviata in Commissione per approfondimenti. Attività, bilanci, personale e programmi per il futuro dell'Adisu. Audizione al Comitato di Monitoraggio e Controllo del Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, Ferrucci. I dettagli nel servizio. Il Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'Amministrazione Regionale, presieduto da Raffaele Nevi, ha ascoltato il Commissario Straordinario dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio dell'Umbria, Luca Ferrucci, per un report sulle attività svolte dall'Agenzia stessa. Ferrucci ha illustrato le attività in corso, la situazione degli alloggi e degli studentati, il programma futuro degli investimenti e i servizi che verranno messi in campo anche per fare fronte alla riduzione del numero delle immatricolazioni. L'Agenzia fornisce servizi per il diritto allo studio a sei istituti di grado universitario in Umbria, a Perugia, Terni, Narni e Foligno. I posti letto per gli studenti borsisti delle residenze studentesche sono 1.248, a cui se ne aggiungono 149 a pagamento. Nel 2016 sono stati rivisti i parametri ISEE per accedere alle sovvenzioni e previsti benefici per mensa e alloggi per gli studenti residenti nei comuni colpiti dal sisma. I beneficiari delle borse di studio sono così aumentati dai 3.070 del 2015 ai 4.300 di oggi. L'importo delle borse di studio erogate è passato da circa 7 a 9.600.000 euro. Adisu ha 55 dipendenti, altri 50 lavoratori svolgono servizio di manutenzione e guardiania in base ad una convenzione con l'Agenzia forestale che scadrà a fine 2016 e non potrà essere rinnovata. Ferrucci ha anche auspicato un potenziamento dell'attrattività delle sedi universitarie Umbre attraverso la riqualificazione delle residenze studentesche, sfruttando i prossimi bandi nazionali per ristrutturare edifici esistenti. Fatto salvo ha spiegato l'esito della vicenda relativa al progetto di residenza studentesca di San Bevignate. Ferrucci ha evidenziato infine l'importanza di reperire risorse private per garantire 5 anni di studio in Umbria ai discendenti di emigrati Umbria all'estero, rinsaldando i legami di quelle famiglie con il territorio. In prima commissione audizione dell'assessore regionale Bartolini e del sindaco di Città di Castello, Bacchetta sul futuro dell'ex ospedale Tifernate, si va verso un accordo di programma per la valorizzazione della struttura. Vediamo. Il futuro delle strutture che ospitavano il vecchio ospedale di Città di Castello è stato al centro dei lavori dell'ultima riunione della prima commissione di Palazzo Cesaroni, presieduta da Andrea Smacchi. L'assessore regionale Antonio Bartolini e il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, si sono confrontati con i consiglieri regionali auspicando la stesura di un accordo di programma tra regione e comune per valorizzare i circa 8.000 metri quadrati dell'edificio. L'incontro è stato anche l'occasione per fare il punto sulle ex strutture sanitarie dismesse di Gubbio, Marciano, Foligno, Perugia e Orvieto. Su richiesta del consigliere Valerio Mancini della Lega Nord, la prima commissione aveva invitato l'assessore regionale Bartolini e il sindaco Bacchetta per un confronto con i consiglieri regionali. Sono state ricostruite le vicende dell'ex ospedale dalla sua chiusura, avvenuta nel 2000. Esposti i punti di vista delle due amministrazioni è auspicata infine la stesura di un accordo di programma tra regione e comune di città di Castello per valorizzare l'intero edificio. Le ipotesi su cui sembrano convergere gli auspici di regione comune e consiglieri regionali prevedono il mantenimento della proprietà pubblica della struttura e il suo utilizzo come città della salute per circa un terzo dei volumi, in cui far convergere i servizi delle ASL che ora si trovano in sedi in affitto e i servizi sociali del comune. Gli spazi restanti potrebbero essere utilizzati per servizi, commercio e anche finalità residenziali. La commissione ha chiesto infine all'assessore regionale di effettuare entro sei mesi e comunque nell'iter di approvazione del nuovo piano triennale del patrimonio un aggiornamento sulle iniziative attivate per la valorizzazione del sito di città di Castello. E per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.